Renato Catapan, grande artista, grande scultore, grande passione, grande umiltà. Dove trai l'ispirazione per la realizzazione di questi capolavori? È difficile parlare di Trovetrago, la mia visione. Io ho la passione della mountain bike, quindi tante volte questi flash mi vengono quando sono sopra le montagne, dove libero la mente da tutti i miei pensieri e mi vengono fuori queste cose. Però una cosa voglio sottolineare e dico sempre ai miei colleghi, scultori, artisti, noi in Italia siamo pieni di opere d'arte, quindi basta entrare in una chiesa e cominciare a curiosare. Quando comincerai a curiosare ti accorgerai, che ne so, dei mosaici sul pavimento, di qualche affresco, di qualche arazzo e sono tutte cose che ci danno insegnamento. Io ad esempio ho tratto molta conoscenza dalle sculture del Canova, mentre una volta mi soffermavo di fronte a una scultura dicevo sei bella e finiva là, non capivo niente. Però adesso mi chiedo ma come fa una montagna di marmo che pesa quintali essere leggera? E cominciavo a analizzare, allora vedevo la forma delle dita, delle mani, la leggerezza, la stuoia, il velo che magari ci sono sopra certe sculture, sembra un velo buttato là, mosso dall'aria, è invece di marmo. Quindi se riusciamo a analizzare queste cose, forse prendiamo quella marcia in più. Quindi tempo, tempo e tempo dedicato veramente a un'analisi della materia e questo è il tuo segreto? Sì, diciamo che forse quello che prevale su tutto è la passione, perché ogni volta dico è l'ultima volta. Dopo San Giorgio il Drago ho detto ragazzi basta, non ne faccio più perché tre mesi di tempo libero persi là mi sembrava di essere una suora di clausura, vivevo solo per quello. Mi concedevo il martedì mattina per la corsa in bicicletta perché te metti uno scopia, ecco tutto là. Però ovviamente la passione ti porta a questo e poi ti porta a rimetterti in gioco e ad essere qui con questi colleghi che sono veramente meravigliosi. Grandi risultati per un grande uomo. Grazie Renato. Grazie mille e un ringraziamento a voi.